Possiamo definire in maniera molto semplice la memoria come la capacità di mantenere l'informazione nel tempo. Sappiamo che c'è un legame molto stretto tra memoria e apprendimento. Non c'è memoria se non c'è apprendimento e viceversa. Il primo a studiare la memoria fu Binghaus, che dimostrò l'esistenza di una precisa relazione tra apprendimento e tempo, adesso dedicato. E poi dimostrò che i contenuti da apprendere senza senso sono più volte più difficili rispetto a quelli che apprendiamo e che hanno un contenuto significativo. Successivamente l'altro psicologo Bartlett criticò duramente Binghaus, sostenendo che le persone non ricordano in modo passivo, ma interpretano sulla base dei loro atteggiamenti, degli interessi e delle emozioni. Bartlett si è occupato di come nel tempo possa variare il ricordo. E il processo di memoria lo possiamo dividere in tre fasi. Una fase iniziale di apprendimento, una fase di ritenzione e una fase di obbligo. Nella fase di ritenzione sappiamo che il materiale viene recuperato e quindi quel meccanismo, la ritenzione, possiamo appunto intenderla come quel meccanismo che consente il recupero delle informazioni, gli stimoli apprisi e fissati nella nostra mente. Possiamo distinguere diversi tipi di ritenzione. La ricostruzione avviene quando il soggetto utilizza un oggetto come fotografie per facilitare il ricordo. La ritenzione, la ritenzione, quando il soggetto ricorda verbalmente. La riproduzione, quando il soggetto ricorda il materiale visivo, quindi attraverso le immagini. E il ritenzione, quando l'identificazione di un'informazione è già acquisita in precedenza. Ma abbiamo il riapprendimento che consiste nel apprendere del materiale già memorizzato e ciò fa riferimento ai primi studi di Ebbinghaus. Pertanto il risparmio è uguale all'apprendimento originario meno il riapprendimento per cento fratto l'apprendimento originario. Quindi con una formula possiamo studiare quanto tempo e quanto materiale possiamo riapprendere una seconda volta. L'oblio coincide con la dimenticanza. Secondo Ebbinghaus l'oblio è molto rapido nella prima ora che segue l'apprendimento e continua nelle otto ore successive, dopodiché rallenta gradualmente e i ricordi si stabilizzano. Le cause dell'oblio. Possiamo parlare sostanzialmente di tre cause. La teoria del decadimento, che possiamo tranquillamente scartare, ma comunque la menzioniamo, secondo cui nel cervello esiste una traccia amnestica nella quale vengono conservati i ricordi e col tempo, perciò appunto si parla di decadimento, col tempo questi ricordi, la quantità dei ricordi decade e quindi diminuisce. Poi abbiamo la teoria dell'interferenza. L'interferenza può essere ritrattiva quando il materiale nuovo danneggia quello preso in precedenza e proattiva quando gioca ciò che abbiamo appreso in precedenza e interferisce ed emerge sul nuovo apprendimento. Altra causa dell'oblio può essere la rimozione, che è un concetto psicanalite, per cui rimando alle lezioni sulla psicanalite. Tipi di memoria. Il modello di memoria, quello di Actinson, è un modello di memoria lineare, che è costituito da una memoria sensoriale, che altro non è se non il prolungamento della percezione visito-auditiva. E a questo proposito noi possiamo parlare di memoria iconica se parliamo di una memoria percettiva visiva ed ecoica se parliamo di una memoria sensoriale, percettiva, uditiva. Nella memoria a breve termine, quindi il secondo magazzino a breve termine, sappiamo che sono contenuti solo sette elementi, sette chunk di memoria, quindi il contenuto di questo magazzino è un contenuto abbastanza limitato. Nella memoria a lungo termine possiamo ovviamente contenere molte, molte informazioni. Se vogliamo parlare appunto della memoria a lungo termine, e a questo punto possiamo chiamare questa memoria a lungo termine episodica e semantica, ad esempio una memoria episodica che indica ciò che noi ricordiamo, Giuseppe, mio padre, l'albero, il platano davanti alla casa della nonna, sto facendo una serie di esempi per spiegare in che cosa consiste questa memoria episodica e semantica, tagliare quando appunto Maria si è tagliato il dito. La memoria semantica è ciò che noi sappiamo, padre, genitore di sesso maschile, albero, una pianta con un fusto eretto e lignoso che ha rami e foglie, insomma, l'auto, il veicolo, un motore con quattro ruote, eccetera. Questo, ripeto, è un modello di memoria lineare proposto dallo psicologo Actinson. Le informazioni quindi passano dall'ambiente attraverso il registro sensoriale e in questo primo magazzino si formano appunto le memorie iconiche, quelle ecoiche, successivamente le informazioni passano nel magazzino di memoria a breve termine, che attiva, diciamo, le informazioni attraverso la ripetizione, attraverso la rapida memorizzazione di informazioni e ovviamente poi c'è il decadimento delle informazioni stesse. Quindi la ripetizione, l'organizzazione di informazioni che poi consente il passaggio delle informazioni stesse nella memoria a lungo termine e pertanto poi non c'è nessuna perdita delle informazioni stesse. E quindi abbiamo detto che le modificazioni quantitative della memoria dipendono dal deterioramento, quindi dal tempo, dall'interferenza e dalla rimozione. Quindi l'interferenza, precisiamo che cos'è l'interferenza, le informazioni prese ieri interferiscono in quelle che apprendiamo oggi e questa si chiama interferenza proattiva. L'interferenza retroattiva consiste nell'interferenza delle informazioni prese ieri, quindi c'è il contrario sostanzialmente, le informazioni prese oggi, scusate, prese oggi interferiscono su quelle che abbiamo già acquisito. Quindi retroattiva quando il materiale nuovo danneggia quello preso in precedenza, proattiva quando il precedente apprendimento interferisce con il materiale da imparare.